Tra cui, se non le dispiace, innanzitutto il lavoro, l'occupazione, i salari, perché c'è chi dice, ed è un... anzi, lo dicono le stime ufficiali, i numeri, l'occupazione cresce, più di mezzo milione di posti di lavoro in un anno, soprattutto posti di lavoro a tempo indeterminato, però salari che in Italia, molto più che negli altri paesi, non salgono come invece sale il costo della vita. Da questo doppio problema, positività dell'aumento dei posti di lavoro, in questione dei salari, di come far aumentare, di cosa fare comunque per la dimensione dell'occupazione e della qualità dell'occupazione del nostro paese. Allora, guardi, direttore, il tema dei salari in Italia è un tema che l'Italia si trascina da molti anni. Io devo sempre ricordare che nei dieci anni precedenti il Covid, in Italia i salari diminuivano dell'1,5%, mentre in Germania aumentavano del 16% e in Francia del 9%. È la ragione per la quale, quando noi siamo arrivati, abbiamo concentrato tutte le poche risorse che avevamo, perché non ne avevamo molto, a rafforzare i redditi delle famiglie. Non voglio ricordare, staremmo qui 20 minuti, tutti i provvedimenti che abbiamo fatto, ma dal taglio del cuneo fiscale alla decontribuzione per le mamme lavoratrici, l'aumento delle pensioni, particolarmente delle pensioni minime, l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'IRPEF, quindi sempre per i salari più bassi, il raddoppio dell'assegno unico, la detassazione dei premi di produzione, dei fringe benefit, cioè ci siamo concentrati su questo.